Partirà con un convegno inaugurale domani alle 18.30 dall'AgriPestum di Capaccio Pestum, la campagna promozionale 2018 del carciofo di Pestum IGP promossa da Terraorti. All'incontro saranno presenti Franco Alfieri, consigliere per le politiche agricole della Regione Campania, Filippo Diasco, direttore generale della Commissione Agricoltura della Regione Campania, il sindaco del comune di Capaccio Pestum Franco Palumbo, il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro, il presidente di Terraorti Alfonso Esposito e il direttore di Terraorti Emilio Ferrara. Parteciperanno inoltre imprenditori agricoli, parti sociali e dirigenti scolastici. Il convegno sarà accompagnato da una degustazione di piatti tipici aventi come protagonista il carciofo di Pestum IGP preparati dalla chef Elga Liberto. Grazie a tutti.